Dove vidi mai io un panorama così superbamente bello, quale potei godere dall'alto del monte dei Cappuccini? Dinanzi a me il Soratte grandioso e la Valle del Tevere, i Colli Umbri, la Sabina, il Lazio, la Campagna Romana. Tutta questa regione immersa nella porpora del tramonto pareva un'apparizione fantastica. Sui monti vicini regnava una maestosa solitudine rotta da cupi castelli e da città. Verso occidente, lontana Molte Miglia, si scopriva una piccola altura presso la quale un'altra ne sorgeva a forma di cupola, Montemario e la cupola di San Pietro. Questo scriveva Ferdinand Gregorovius nel suo Attraverso l'Umbria e la Sabina in passeggiate per l'Italia del 1861. Il convento di Montefiolo si trova nell'omonima frazione del comune di Casperia, costruito inizialmente per i frati Cappuccini e da costoro utilizzato per secoli, dopo alterne vicende connesse all'invasione napoleonica e successivamente alla costituzione del Regno d'Italia, è ora abitato da una comunità di monache agostiniane spagnole. Il nome del monte deriva da Mons Filiorum Ugonis Comitis, essendone proprietari nel Medioevo i figli di un conte Ugone, signore di diversi feudi in Sabina. Il colle di Montefiolo si eleva per circa 400 metri sul livello del mare. Si arriva al convento percorrendo per circa due chilometri una strada contornanti, addentrandosi in un fitto bosco di lecci, residuo di quella foresta in passato considerata sacra e dedicata alla dea Vacuna. Su questo colle fu edificato un castello che andò poi distrutto nel 1328 nel corso delle agitate vicende collegate alle calate di Ludovico il Bavaro. Nel 1368 questo castello fu donato al nobile Giovanni di Sant'Eustachio che nel 1391 lo cedette a sua volta alla comunità di Aspra perché se ne servisse come pascolo con l'obbligo di costruirvi una chiesa e l'abitazione per due religiosi che pregassero per le anime del conte Ugone e dei suoi successori. Questa volontà fu realizzata ma soltanto nel 1558 quando Ostilio Savelli, barone di Aspra, concesse a Francesco Massari da Aspra tesoriere dei papi Giulio III e Marcello II facoltà di fabbricare sopra Montefiolo un convento e la chiesa del Santissimo Salvatore per i frati Cappuccini. Nel 1560 Francesco Massari morì lasciando una somma per il completamento del convento. Nel 1573 a Montefiolo i frati formarono già una comunità abbastanza numerosa ed era stato già istituito il noviziato. Tuttavia essendo il convento molto angusto e scomodo di stanze nel 1597 si decise di eseguire lavori di ampliamento che però si protrarranno fino al molto più tardi grazie alle generose donazioni pervenute da più parti. A turbare la serena quiete di Montefiolo giunse poi il periodo della dominazione napoleonica che impose ai religiosi l'abbandono del convento. Crollato il dominio napoleonico la situazione tornò alla normalità quando i religiosi poterono rivestire il proprio abito, rientrare nei conventi e riprendere le proprie funzioni e ciò avvenne così anche a Montefiolo. Ma dopo qualche decennio la tranquillità fu turbata nuovamente dal costituitosi Regno d'Italia e con applicazione al 31 dicembre 1861 il convento divenne proprietà del comune di Aspra, antico nome di Casperia. Nel novembre del 1882 il rettore del seminario Lombardo si recò a visitare il luogo e lo acquistò per farne residenza di villeggiatura dei seminaristi. All'inizio del novecento il convento subì notevoli ampliamenti ma col passare degli anni i seminaristi lombardi non andarono più a Montefiolo ma soltanto pochi giorni per la Pasqua. Poi lo disertarono definitivamente e il convento fu lasciato a un graduale deterioramento. Ridotto così in un miserevole stato di abbandono e di rovina fu acquistato nel 1935 dal Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Il comune lo fornì di acqua potabile diretta. Il comune lo fornì di acqua potabile lo per gli giorni. Anche la partire di un pubblico o no po' convento, spia fronte il pubblico del pubblico. Per gli stai un po' convento. Grazie a tutti.